Ecco è rimasto questo bosco da tagliare con le spine avviluppate, questo è un figo, gli olivi li abbiamo quasi tutti, sono 40 alberi, guardate i punti di sterballi e di spine da tutte le parti, ma è un mese che ci lavoriamo quasi tutti i giorni, qui era una foresta di spine, vediamo il pischetto qua che ci lavora, io taglio le spine qui, le ammucchia qui vedete, poi attacchiamo l'altro campo di là, il macchino grosso diciamo, nel grosso c'è rimasto solo questo lato da oggi con la motosega tagliò i rami in banca. Oh 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 oh